Il voto del Consiglio, chiederò il voto del Consiglio, quindi passiamo dall'articolo 35, la regia di concetti, parliamo di articoli nuovi, di nuovo diciamo il termine, in caso di condivisione di particolare concetti, il sindaco chiede al Presidente del Consiglio Comunale che il parecchio della Commissione che avesse in termini aggregati, in nessun caso il termine può essere interiore a 96.2, il Consiglio deve votare a favore o contro o si attiene, chi è a favore ha tra la mano, chi vota contro, non ha tra la mano, chi attiene o si arriva a capire una seconda, una testa fine, quindi si può scelta la stazione. Per come detto, perché lo scusa quando scudato il Consigliere Polizio e il Consigliere politica, allora sono presentate le mani che potete fare, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 voti favorevoli, i voti contabili non ci ne sono, ci sono ostensioni, quindi Articolo 36, il Daccio. Nelle materie di nuova competenza delle condizioni, il nostro discorso di Daccio indietro alla cittadina, l'inizio, produzione e documentazione. Il Daccio. Nelle materie di nuova competenza delle condizioni, il Daccio indietro alla cittadina e la cittadina, l'inizio, produzione e la cittadina, l'inizio e l'inizio di Daccio indietro alla cittadina, l'inizio, produzione e documentazione. del Consiglio Comunale. Vogliamo l'articolo 36 e il senso con la testa metodologia. Quindi si conferma la votazione precedente. Articolo 37. Commissione del Consiglio 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 Grazie a tutti.